Saldo, giovedì 25 novembre 2021, cosa vedo di fronte a me? Napoleone in veste pacifista, ma guardare Brera si è accesa di una luce nuova, rosso colore della passione, rosso colore della focosità, ebbene queste luci che danno una vita nuova a questo bel cortile, dove in me mormora una malinconia a non vedere l'aula 4 con la modella. Sì, ora non esiste più la coppia dal vero, attualmente, esiste la coppia dal vero solo attraverso un monitor, ma anche in me qualcosa di un'essenza che ha dato vita al mio essere, al mio esistere, la coppia dal vero dove il senso naturistico era una cosa vera, reale, era un'arte. Ora l'arte si manifesta attraverso una visione di un monitor, non so cosa prevale in me, un senso artistico, forse si è spenta a me l'opinione che l'essere è dotato a una visione ottica attraverso un monitor. Io no, no, non cambierò mai la mia idea, come vedere un paesaggio lo preferisco in senso naturalistico, e così un corpo anatomico lo preferisco sicuramente in visione ottica dal vivo, dal vivo, ma dal periodo che adesso viviamo da due anni, si è costretti a dipingere l'arte attraverso un altro mondo, dove il mio io vive in sensazioni non emotive, ma in sensazioni plausibili, dove io posso riemergere in un senso del passato per evolvere che la mia vita adesso non esiste, ma esisteva. Infatti ho passato i miei più bei anni nella mia vita nel liceo artistico qui, sia in età giovane che in età della terza età. Ebbene, sono qui, ammiro, ammiro ancora questa forma anatomica, naturalistica del senso di Napoleone. Però, però, nasce mai un dubbio, l'essere, io, uomo, dotato di un'esperienza visiva, non scorderò mai gli anni belli che ho vissuto in questo ambiente. Aldo Grazie. Grazie. Grazie.